La Polesca Italia che presenta il pericolo J4 in fase di decollo in questo momento, progettato dall'ingegnere Ian Notta e costruito da Ermec, un'azienda campana, un'anni di esperienze nel settore. Decollo subito poco, subito il pilota dimostratore, con un passaggio pulveta ad indicare la grandiosa capacità dell'aereo di volare anche con un forte vento attraverso.